Ciao a tutti i gamer, qui è Mr.Dano che vi parlo e siamo con Rainbow Six Siege. Cos'è Rainbow Six Siege? Beh è un gioco che sicuramente voi tutti conoscete, perché è tipo impossibile non conoscere questo gioco. È un gioco comunque sia abbastanza simulativo, anzi direi tanto simulativo. Qua veramente si muore con pochi colpi, ma ovviamente conoscerete già il gioco, comunque sia ve lo sto dicendo. È un gioco, un FPS in prima persona come avrete già potuto ben notare. Che Cristo mi ha tirato un allagato o qualcosa, vabbè, dettagli. No, brutto, ah volevi eh, merdaccia. Il nostro obiettivo, adesso i round si faranno da attacco e da difesa. E adesso c'è la difesa. Dobbiamo difendere questo signorino qua, questo ostaggio brutto. La difesa la odio, anche perché non so giocare come difesa, anzi sono un po' granucci in questo gioco. Chi è che mi invia dei messaggi senza il mio permesso? Vabbè, fatto sta che ogni personaggio, c'è la particolarità, particolarità grande di questo gioco, che ogni personaggio ha delle proprie abilità. Esempio, io ho piazzato il coso delle armature, cioè dei giubbotti antiproiettili, e ognuno ha i suoi. Dunque, cioè, da questo punto di vista, secondo me è una cosa veramente, veramente molto bella. Intanto hanno fatto una team kill, fantastico, ok. Sembra che va bene, cioè ci sta, hanno già fatto una team kill. Quattro contro quattro, ragazzi, uno dei nostri è morto, è morto male. Siamo qui barricati, non dovrei giocarmela, cioè, sì e no, nel senso che ci sono vari modi di approcciare. Solo che, ragazzi, io non sono capace, cioè, in difesa proprio non riesco, non so come dovrei approcciarmi al meglio. Magari, ecco, magari utilizzando qualche telecamera potrebbe essere d'aiuto. Sì, peccato che sono tutte fuori uso, magari le uniche che possono essere interessanti sono fuori uso, ben vinto. Eh, ok, è caduto giù, uno è caduto giù, oh mio Dio, va bene. Tanto possiamo ammirare la kill migliore, cioè, la kill migliore, l'ultima kill. Eh, va bene, ci sta, ci attacca. Ok, ragazzi, come ben potete notare, in attacco si va con un drone, un drone veramente di merda. No, un drone che, tipo, solo questo verrà, tipo, un miglio. Uh, e guardate, l'ho sbiamato proprio io, adesso gli do fastidio. Eh, gli do fastidio, merdacce. È troppo bella, no, mi hanno distrutto. Da notare il fatto che ho fatto zero uccisione, ma nonostante ciò sono il primo della squadra. Ok, siamo dentro, finalmente. Telecamera. Sbam. Eh, loro, effettivamente, cioè, noi possiamo utilizzare i droni, mentre loro, al posto dei droni, possono utilizzare le videocamere. Allora, una cosa che farei molto, eh, rapidamente, è l'utilizzo del drone. Intanto ho scelto un personaggio che ha l'abil... Uh, eccone uno qua, infatti. Eccone uno qua. Aspetta, piano. Aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Dai. Tristo. L'ho visto, l'ho visto, dove era. Ok, eh, ho perso un batto di tempo. Me la sono giocata, secondo me, molto male. Però... Va bene. Tiriamoci una granata, tanto per sicurezza. Più culo. Ok, telecamera distrutta e basta. Non mi è andata molto bene. Me la sono giocata malissimo. Per una cosa. Per una cosa. No, 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 no. Ho salvato il nostro compagno da morte certa. Ok, piano. Ok. Me la sono giocata male, per il semplice fatto. Poi, ma che ho mancato la porta. Ho continuato a mancare la porta. No, Cristo. No, 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 no. Cristo, sono morto. Rimane un nemico. Ragazzi, momenti epici. Scherzavo. Abbiamo perso il round, però va bene. Ok. È stato molto, molto bravo. Peccato. Stava, stava giocando bene. Peccato che sia fatto ammazzare così. Ok, l'altro round. E siamo sempre... Ok, non me la giocherò allo stesso modo, perché se no sarei ripetitivo, tipo a livelli stratosferici. E penso che me la giocherò in questa stanzina buia. E cupa. Eh, sì. Penso proprio di sì. Eh, fatto sta che non mi sembra una brutta idea giochiamola qua, per il semplice fatto che la posizione è buona. L'unica cosa che farei molto velocemente... Eh, qua mi manda verso... Cristo, qua mi manda verso l'esterno. Niente, allora rimuoviamo e rimettiamola. Niente, avevo un'idea... Lasciamo perdere. Vabbè, eh... Vi spiego. Ma porca, porca stitroni. Ma vai, va a morire ammazzato. Vedete questi? Questi possono rompere e scendere. Io volevo arrivare da sopra, ma... Non c'è più tempo. Eh, niente. Vabbè. Fa lo stesso. Fatto sta. Mi barico qua, adesso a questo punto e... Aspetto. Voglio valutare la situazione. Allora, intanto, piazziamo questo. Che male non fa. È sicuramente d'aiuto. Ho scelto come classe il dottore. Stavolta, partisco a MadDoc. Eh, c'è come particolarità le siringhe. Posso curare me stesso o i miei compagni feriti? Ok. È abbastanza utile per la squadra. Spero però di essere utile anche con il merino e con i miei colpi. Chilando qualcuno, ovviamente. Fuck. Lo sapevo. Lo sapevo, raga. Lo sapevo. Lo sapevo. Help. Help. Cristo. Ragazzi, ecco. Sapevo io che sarebbe finita così. Merda. No, ragazzi. Sono nella merda. Uh. Fuck. The Christual. No, tranquillo. Non ti ammazzo. Dove è l'ultimo? Eccolo. Cristo. È morto. Nostro amico qui davanti a me. I miei occhi. È qui. Da qualche parte. Dov'è? Merda. Non ho idea di dove sia, ma so che è qui. Cristo. Volevi. Guarda che faccia. Non se l'aspettava. Sbam, sbam. Mamma mia, ragazzi. Guardate che osservazione epica. Sbam. Lo poso in faccia, tra l'altro. Guarda, poi con tutte le sue mediche schinnate. Mamma mia, ragazzi. Cioè, io proprio, un poveraccio che ammazza un riccone. Fantastico. Uh. Che ammassamento di popolazione indigena che c'è qui. Salve. Sono stato morto, tipo, ucciso malissimo. Vabbè. Dettagli. Ecco, una cosa che devo dare veramente un complimento per questo gioco è l'ambientazione che è veramente bella. Insieme alla grafica mi piacciono molto, molto a tutti e due. Il gameplay a volte fa tipo tirare le madonne. Infatti, non ve l'ho portato prima, anche se volevo portarvelo, perché è già un po' che gioco, sono tipo livello 40, un livello, una roba del genere. Solo che avrei voluto portarvelo prima. Infatti che non ve l'ho portato, sinceramente. Per una cosa soltanto. Cioè... C'è qualcuno? Tanto qui? Cioè il fatto che ti fa tirare tante madonne, sto gioco. Tante. Lo so che qua. Cristo. No. Non sono stati ind... Merda. Le telecamere di merda. Ah, si sono... Eh, volevi, eh. Guarda che faccio, non se lo aspettavo. Ma il fatto è che... Un altro! Tutti cadono! Mamma mia, epico. Ok, piano. Ok, ok. Ok, ritiriamoci un attimo qua. Vediamo se possiamo rompere sotto. Cioè... Qualche modo per rompere sotto. No. Sembrerebbe di no. Ok, qui. Ok, carica. Vai. Falla saltare, amico. Falla saltare. Merda. Piano. Ok. Ok. Allora. Se io tipo qua mettessi... E dico mettessi... Un... Uno di questi. Come sarebbe la situation? Merda. Cristo. Fuck, fuck, fuck. Cristo santo. Faccio pa... Oh, abbiamo vinto! Quanti erano? Ah, mi sa che era l'ultimo, forse. Vediamo. L'ultima kill. Sì, mi sa che era l'ultimo, quello. Sì, 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 era l'ultimo. Cristo, peccato. Volevo killarlo io, sapevo così. Ci andavo più crentoso. Bensì, fatemi sapere se vorreste vedere altri video di Rainbow Six Siege. In tal caso, mi raccomando, fatemelo sapere attraverso un commento. Mi piace. Iscrivetevi al canale per nuovi video. E fatemi sapere se vorreste vedere dei gameplay insieme a qualcuno. Magari sarebbe un po' più interessante. Anche con dei cacciai terroristi. Cioè, contro dei bot. Che sarebbe, secondo me, potrebbe uscire qualcosa di interessante. Comunque, fatemi sapere a tutto ciò. E noi, come sempre, ci becchiamo a un prossimo video. Intanto io me ne faccio un'altra perché posso e sono fiero. E alla prossima. Grazie.